Brasilicata Tour è il festival della contaminazione delle culture, un lungo ponte che collega lo stato più ampio dell'America Latina con la Basilicata. Musica, arte, danza, teatro, enogastronomia, natura e turismo sono questi gli elementi che faranno da collante al singolare scambio di identità e culture tra la nostra Lucania ed il paese della samba e del carnevale più colorato del mondo. Un'opportunità di lancio e di internazionalizzazione della nostra cultura da non sottovalutare se si considera che il Brasile l'anno prossimo ospiterà i mondiali di calcio, quale migliore vetrina ed esposizione mediatica per i talenti nostrani. Confcommercio Potenza ha ospitato ieri la presentazione del progetto Brasilicata Tour in un incontro al quale hanno preso parte sindaci ed amministratori nonché rappresentanti dell'imprenditoria locale e turistica. Il Brasilicata Tour è un progetto ideato da Responsability.co, un movimento internazionale di consulenza sulla responsabilità sociale e lo sviluppo sostenibile. Se ognuno di noi fa la sua parte, le istituzioni, le amministrazioni locali, gli operatori, le associazioni, sicuramente in una sinergia di rete possiamo sicuramente contribuire allo sviluppo del settore turistico in Basilicata. Il Brasilicata Tour è la fusione tra il Brasile e la Basilicata proprio per organizzare eventi di fusione tra la scena artistica contemporanea che c'è qui, che io trovo molto interessante, e la scena artistica contemporanea che è in Brasile. E quindi per tutta l'estate abbiamo pensato di, utilizzando una partnership che ho sviluppato come Responsability.co, che è la mia società di consulenza con il Brasile, abbiamo pensato di invitare artisti brasiliani qua e dare dimostrazione di quanto noi siamo ospitali in quanto lucani, mi ci metto anche io in quanto residente da poco. Siamo in un momento di super organizzazione, quindi sta succedendo tutto in divenire, però sicuramente penso che non solo noi, ma tutta la Basilicata è pronta per il Brasilicata Tour e per accogliere questi artisti brasiliani sarà sicuramente un'esperienza molto interessante, e produrremo anche musica insieme, quindi usciranno proprio delle canzoni, dei dischi. In questo modo noi attraverso la cultura musicale potremmo lanciare soprattutto il territorio dei nostri paesi, le immagini dei campi coltivati, del verde, dei boschi, i sapori, i profumi, il vino, i fagioli, il formaggio, perché è chiaro che gli artisti brasiliani saranno ospiti da noi, quindi assaggeranno tutti i nostri prodotti e di questo ne parleranno e ne parleremo tutti quando a novembre si scambierà con il gemellaggio la visita in Brasile.